Possiamo raccontare un attimo qual è il mondo, cioè cosa c'è dietro al mondo dei tipster? Quindi ti hai detto che i tuoi gruppi erano gratuiti, ma guadagnavi da questo lavoro? No, certo, c'è una conversione, la conversione io non voglio spiegarla nello specifico, voglio dare un'indicazione così le persone cercano di metterci del loro. Allora, il mondo del betting è branding, in poche parole che succede? Le varie compagnie di betting chiedono ai vari tipster che hanno un seguito legato al mondo delle scommesse di fare branding, di pubblicizzare la loro azienda, di fare questo, di fare quello, advertising, che poi converte in un'acquisizione, in una provvigione, c'è tutto un mondo dietro molto complesso. Un po' tipo quelli che pubblicizzano le sale trading, che guadagnano dal broker, no? Sì, è come se hai una percentuale sulla giocata che fa. No, no, ci sono tante voci, te le spiego io, si può valutare varie formule, c'è la provvigione sul giocato, la provvigione sulla sconfitta, nessuna provvigione, solo l'acquisizione iniziale, ci sono vari tipi di accordo. Quindi io personalmente, siccome non mi andavo ad essere alleato delle compagnie di gioco, ma alleato dei giocatori, io non mi sono mai accordato personalmente con un pacchetto dove loro davano, che ne so, dei riconoscimenti su una perdita. Io non l'ho mai voluto perché io ero veramente il loro nemico e c'avevo un esercito dietro. Non posso essere alleato del nemico quando io ho tutti i miei fratelloni che mi seguono. Cioè, quindi dicevo, no, 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 io questi accordi non mi piacciono, se volete parlare con me facciamo branding, mi pagate per la pubblicità, mi pagate per l'acquisizione, ma non voglio entrare a condividere con voi entrate e uscite, perché sennò psicologicamente non avrei mai giocato libero. Certo, se ti pagano sulla perdita significa che stanno consigliando al tipster di consigliare perdita. Ma guarda, più che consigliare al tipster di consigliare la perdita, entra in una modalità psicologica sbagliata. Perché te guadagni a prescindere. Hai capito? Io non ho mai accettato questo, personalmente. Poi ti dico che le aziende lo fanno, perché le aziende si sono comportate aziende. Tipo, questa è una cosa molto interessante. Poi c'è la persona fisica che ti dice, no, no, io la mia etica personale non è così, io voglio lavorare, pure perché poi mentalmente mi perdo riferimenti, cioè io gli voglio rompere le ossa a questi, che faccio? Eh, io rompo le ossa e poi mi metto al tavolino con loro a contare la cagnotta. Chiaro, chiaro. Eh, ma senti, non per farmi gli affari tuoi, ma quanto può arrivare a guadagnare un tipster? Quindi se non vogliamo parlare di te, tipo, ci sono tanti tipster oggi famosi di cui non facciamo nomi. Ma guadagnano come qualche calciatore. Cioè, qualche milioncino l'anno. Alcuni no, quelli di nicchia sì, quelli importanti qualcuno arriva. Che sono i tipster più importanti oggi in Italia? C'è il Penguin in Italia, c'è lo Scom, c'è Gianluca Sambuca, ce ne stanno tanti. Sono tutti figli tuoi comunque. Alla fine anche quelli che oggi rinnegano sbanca sono tutti figli miei. Sì, un po' come con Big Luca, capo, guarda. Cioè, non c'è poi niente, poi loro possono dire... Ma secondo te questi tipster, a livello di percentuale, quindi tra vincite dal gioco e referral, affiliazioni, quant'è la percentuale di guadagno su entrambe? Quindi guadagnano più dalle affiliazioni, dalle vincite dal gioco? No, guadagnano dalle affiliazioni. Le vincite dal gioco, se loro raccontano che campano del gioco, per me non stanno a diaverità. Loro campano di quello che genera questo mondo, che ho inventato io e che loro stanno portando avanti, diciamo anche bene, perché gli dà ragione i numeri. Poi ognuno c'è il suo metodo di lavoro, no? Però non illudiamo nessuno. Il gioco deve rimanere un gioco. Quando... Scusa, no, finisco. Che poi ti dico una cosa. Io ci sono dei momenti della mia vita che veramente facevo 10-12 ore al giorno solo di studio e giocavo mirato, culato e riuscivo a guadagnare. Ma è un altro tipo di... Quello lo trasformi in un lavoro. Ma dire che poi lo replichi con tutte le persone che ti seguono? No. Perché io posso pure far vincere tante persone, ma poi quello che hanno vinto a volte non lo scaricano, se lo rigiocano da soli. Eh, fatti, capito? Non puoi modificare, non puoi trasmettere la tua mentalità. No, io ti posso far vincere. Poi tu se ascolti i miei consigli, dici sai che c'è, ma ha fatto vincere qualche soldo? Io prendo un mo' scarico, perché io consiglio sempre di scaricare. Perché ogni volta che tu mi metti i soldi sul conto, fai un'azione. Se invece non li scarichi, sono dei numeri lì che tu non ti accorgi di quanti soldi ti giochi. Per avere un po' di contatto. Anche perché giochi live, per dirti, quando giochi live ti pari, ti fai, co.